Un accorgimento che vale per il 90% delle piante, eccetto le acquatiche, eccetto i salici, i pioppi che godono stare in mezzo all'acqua, la maggior parte delle piante può avere dei problemi di marciume radicale se l'acqua ristagna lì. Tutte le piante vanno più o meno irrigate, spesso. Certe piante poco, certe piante di più, però tutte, la maggior parte, diciamo, soffre di stagno d'acqua. Quindi l'ideale è mettere sul fondo sia che le piantiamo per terra, sia le piantiamo in vaso. L'argile espansa è un prodotto che va bene perché è leggero, tende a far drenare l'acqua nel vaso, a tenere lontano l'acqua ristagnante dalle radici. Tre altri prodotti che si possono usare sono sassi, lapillo, pomice, eccetera. Però questo, diciamo, è più utilizzato perché è anche più leggero, quindi il vaso non diventa pesante a 60 kg. L'argile espansa la trovate sul sito sassigardian.com e spediamo in tutta Italia.